Benvenuti su Gossip Globe. Oggi svegliamo i segreti del nuovo amore di Ida Platano, che sembra aver trovato l'amore con una celebrità della tv italiana. Prima di iniziare, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i nostri prossimi video e tutte le ultime news. Ida Platano ha lasciato il trono di uomini e donne, forse delusa dalla mancanza di corteggiatori interessati. Ma si dice che dietro questa decisione ci sia un altro motivo. Ida è stata vista in dolci atteggiamenti con un volto noto, scatenando la curiosità dei fan. Dopo la fine della sua storia con Alessandro Vicinanza, il cuore di Ida sembra battere per un nuovo amore. Chi è l'uomo misterioso che ha conquistato la bella siciliana? Ida, che aveva accettato il trono dopo l'addio di Manuela Carriero, ha scelto di mantenere il silenzio sulla sua vita sentimentale. Nel frattempo, l'ex corteggiatore Mario Cusitore ha abbandonato definitivamente lo studio, chiudendo ogni possibilità di ritorno con Ida. Nonostante le delusioni passate, i fan continuano a seguire con attenzione ogni mossa di Ida. I fan sperano di scoprire presto chi è l'uomo che sembra averle riportato il sorriso. E tu, cosa pensi di Ida Platano e della sua nuova avventura amorosa? Diccelo nei commenti. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Grazie per aver guardato Gossip Globe.